Con il mister Luca Tabbiani al termine di Alcione-Milano-Trento, un 1-0 per noi mister. Il dodicesimo risultato utile consecutivo, un'altra ottima prestazione pur non avendo giocato insomma su un campo a noi consueto. Però appunto tre punti veramente di peso importanti per la classifica ma anche per il morale e per tutto il proseguo della stagione. Siamo contenti, è stata una partita particolare, abbiamo fatto i primi 15-20 minuti di altissimo livello. Poi qua la partita si sporca presto ma sia per noi che per loro ora almeno posso dirlo che abbiamo vinto. Se no sembra un alibi ma è un campo veramente impossibile da giocare. Abbiamo fatto di necessità virtù ed è un peccato anche perché dopo sono una buona squadra e sarebbe venuta fuori una bella partita. Ho detto che questi ragazzi sono stati bravi a soffrire, a giocare più palloni sporchi rispetto al solito e comunque a ricercare qualche volta finché si poteva determinate soluzioni. E poi sono stati bravi a soffrire nella fase finale dove ormai veramente era difficile poter giocare diciamo con la palla per terra sia per noi che per loro. Sono tre punti belli, importanti, andiamo avanti. Siamo contenti ma sono contento dell'atteggiamento che hanno i ragazzi. Ne parlavo prima col direttore, prima di venire in sala stampa è difficile trovare uno che ha sbagliato qualcosa in queste 13 partite. e dobbiamo portare avanti questo modo di essere che è la cosa più bella che contraddistingue questi ragazzi. Ora ci siamo creati una bella partita venerdì sera, già la gente sta iniziando a venire. Uno degli obiettivi visto che spesso mi chiedono che obiettivo è quello di portare gente allo stadio. Abbiamo il nostro troppo duro che viene anche in trasferte e loro ci saranno sempre in qualsiasi momento. Però ora possiamo portare anche gente curiosa e abbiamo questa responsabilità di vedere un bel ambiente al Bria-Masco che si merita la società, la città, i ragazzi e lo zoccolo duro di tifosi che abbiamo. Credo che siano gare come queste che certificano, l'avamo detto altre volte, la maturità del gruppo. La capacità di soffrire, anche la fortuna che aiuta la squadra in certi momenti. Un pizzico di fortuna ci è voluta oggi perché loro hanno avuto due palle gol e non le hanno sfruttate. Ma io non voglio dire, non voglio dire, non sembra che tiri fuori il pelo nell'uovo. Però la squadra, dico, ha fatto una partita, Gagliarda secondo me, e questo va riconosciuto, forte fisicamente. Cioè aggiungi secondo me un tassello in più. Cioè non deve essere una cosa di cui, voglio dire, che gli dà fastidio sottolineare che abbiamo avuto magari anche un pizzico... Cioè ci sta tutto quello in un percorso, secondo me, di questa squadra. E il fatto che comunque abbiamo mantenuto la porta inviolata non è un caso. No, no, sono d'accordo. Ci sta un pizzico di fortuna, però c'è il fatto che la squadra comunque ha quegli attributi, magari anche se non hai avuto, secondo me, tutte le risposte forse al top dei giocatori che hai in campo, perché comunque ti mancava magari qualcosa, eccetera. Però vuol dire che il gruppo ha una solidità, è una forza caratteriale che secondo me è importante. Io vi vince, vedo che sono proprio queste le gare che secondo me possono, come dire, incidere una stagione. Sicuramente sì. A di là del bel gioco che c'è sempre stato, che oggi era impossibile su un campo in decenni. No, l'abbiamo fatto finché sia potuto. Ho capito quello che vuoi dire e condivido, nel senso che queste vittorie fanno capire quanto si ci tiene a non prendere gol, quanto la soglia dell'attenzione è alta, perché ogni minima palla che rimbalzava non sapevi dove andava, dietro sono stati bravi, in mezzo hanno corso, come sempre. Quello che dico io è che è chiaro che ci sta nell'arco dell'anno avere una situazione. Noi abbiamo fatto dei pareggi dove onestamente qualcosina in più e io ho sempre detto che è inutile stare a parlare perché a volte nell'arco del campionato, prendiamo anche l'alcione, altre volte ha vinto, che magari poteva essere un altro risultato. Il campionato, il calcio è fatto un po' così. Io quello che devo e voglio rimarcare è che spesso ai ragazzi dico che spero che rimangano come sono, che per me, per loro deve essere un grande complimento e penso che la gente la pensi come me, perché vedere l'abnegazione che emettono durante la settimana e quello che esprimono in campo, vedere tanti giocatori che recuperano l'errore di un compagno è uno dei motivi per il quale stiamo ottenendo questi risultati. Io, noi ovviamente non dobbiamo fermarci, dobbiamo andare avanti, prendere come abbiamo fatto altre volte i complimenti, ma a venerdì abbiamo una bellissima partita ed è stato, questa vittoria è importante per farcela vivere bene. Avremo delle assenze perché abbiamo fuori sicuramente Frosinini e Cappelletti, ma questi ragazzi mi hanno dimostrato che non è mai un problema, anzi, riuscire a sopperire a queste due assenze importanti ci permetterà di prendere ancora più forza e valore. Abbiamo fatto tante partite senza tanti giocatori importati, non abbiamo mai detto niente proprio perché ho un gruppo che permette di sopperire a determinate cose. Mister, in questi otto giorni abbiamo visto tanti cambiamenti tra una partita e l'altra, eppure il risultato non è incambiato. Questo è un altro valore che il gruppo riesce a trasmettere sul campo? Questo io lo sapevo già prima ovviamente perché li vedo quotidianamente e sono contento che l'hai rimarcato perché fa capire come lavorano i ragazzi. Vuol dire che se uno magari, tipo Fini, ha giocato domenica, che non era mai partito dall'inizio, è la prima presenza da titolare nei grandi, ha retto 90 minuti alla grande, vuol dire che si allena bene, fa una vita giusta, punto. È partito anche così e poi dopo ha fatto una grande gara. Vittuo è stato fermo un mese, è rientrato, Barison è stato fermo un mese, è rientrato qua. Ho un gruppo serio. Penso che non sempre, quello che dobbiamo capire io con i ragazzi, è che non sempre capita di iniziare così delle stagioni e bisogna sfruttarle perché può essere una stagione bella. Il nostro obiettivo rimane quello di inizio, non è che si cambiano in corsa, poi esistono i sogni, esistono le speranze di poter arrivare sempre più in alto. Però al di là della classifica, quello che è bello è vedere giocare questo gruppo di ragazzi che chiunque viene chiamato in causa riesce a dare la stessa prestazione, poi c'è chi ha più qualità, chi ha un altro tipo di qualità, ma tutti sono stati utili e indispensabili. Se andiamo a vedere le presenze nel totale sono tante, per tutti, quasi tutti hanno giocato tanto, vuol dire che io mi fido di loro, ma vuol dire anche che sono giocatore all'altezza se comunque i risultati arrivano sempre. Ed è la soddisfazione più grande per me, ma deve essere anche per i ragazzi. Ora, è un bel momento questo, dobbiamo godercelo perché secondo me nella vita quando le cose van bene bisogna godersene, non cercare sempre però se avessimo vinto oppure adesso prendiamo, no, ci dobbiamo godere il momento, fare un bel viaggio di ritorno felici e poi cancellare tutto e ripartire da venerdì, come i ragazzi hanno sempre fatto, prepararci per questa bella partita nella speranza che ci possa essere quello che già abbiamo vissuto con Triestina, Provercelli, anche martedì, che era un martedì, c'era tanta gente, ancora di più perché è bello vedere tanta gente al Bria Masco. A me sarà che io ci sono stato tanti anni fa e lo stadio era diverso, il calcio era un po' diverso, ora mi giro e vedo tanta gente in tribuna, spero di vederne sempre di più, ecco, se riusciamo a riempire la cura, tante cose che dobbiamo fare con il risultato, ma che in questo momento i ragazzi si meritano, perché venerdì abbiamo bisogno di avere tanta gente per rendere merito a quello che stanno facendo e noi nello stesso tempo continuare a cavalcare questo momento senza pensare al passato perché purtroppo ne mancano ancora troppe di partite, finisce oggi, ma ne mancano tante, noi dobbiamo rimanere lucidi e compatti e continuare a essere quello che sono. E poi un'ultima domanda sul fatto che Petrovic comunque ha dimostrato comunque in 5 minuti e ha risposto a quei dubbi che tutti si ponevano con una giocata. Sì, sì, a me poi tra l'altro era gol, vabbè, ma quello. Tom, potevo fare entrare prima di nuovo, sì, ci siamo messi a 5 perché ormai tanto non si poteva più giocare, martedì aveva giocato tanti minuti, oggi ha giocato un po' meno, ma un giocatore che ci dà una mano, un giocatore importante, avere Di Carmine davanti, poi Petrovic quando entra o quando gioca, sono giocatori importanti, ognuno deve capire che lo spazio poi è variabile, oggi meno, magari domani può essere un po' di più, ma ormai è lo spirito di tutti, Vallarel, tutti quelli che sono entrati, anche Cassamà, è migliorato di testa perché oggi ho rinviato un po' più forte rispetto ad altre volte, però io quando mi chiedono come stai dico sono felice perché ho un gruppo bello da allenare, vado al campo e sono felice e quindi vuol dire che ho dei ragazzi belli da allenare. Ora, tutta questa bellezza dobbiamo portarla avanti, però quello che sono fino ad oggi è giusto rimarcarlo e farlo presente. Poi, ripeto, da lunedì aspettiamo i complimenti di sabato, ecco, quelli vecchi non contano più niente. Va bene, ho risposto tutto. Forse ti potevo chiedere di Frosinini, visto che era in diffida hai pensato magari a risparmiarlo per la gara con la Ferralpi, invece no, è stato determinante. Marugia ha una fisicità che può fare 10 anni. No, ho visto che fino all'ultimo secondo ancora andava in avanti. Sarà una perdita pesante, ma abbiamo Vittorini. È chiaro che dietro siamo veramente quattro. In questo momento è che Bernardi non penso che recuperi col dito. Vediamo il capitano tra le notti se, ma sarà difficile. Abbiamo fuori, quindi saremo quattro, li terremo in una campana di vetro, ma tutte e quattro hanno già giocato e hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione. Io penso che la qualità del gruppo, nei momenti che magari sia un po' più difficile, aiuta a sopperire determinate cose. E queste sfide diventano ancora più belle, ti alzano ancora di più l'attenzione. E io, ma anche i ragazzi, non vediamo l'ora che arrivi venerdì per fare questa bella partita.